I Tensil con controllo coppia angola d'assorbimento ad un indicatore affidabile. Siamo fieri di parlare di Made in Italy totale. Soluzioni con due anni di garanzia o migliore di cicli. Il suo cuore, il motore brushless, è il massimo che possiate trovare sul mercato. Dal punto di vista della precisione e della durata nel tempo, sono certificati ISD, cosa vuol dire, che sono immuni da fenomeni elettromagnetici e possono quindi lavorare senza problemi nei settori elettronici. Il guscio è progettato e costruito affinché polveri e sfidi non entrino nell'abitatore, proteggendolo da eventuali usure. Un elemento spesso critico è il cavo. Il nostro appensibilità è arrivata realizzato su nostre specifiche indicazioni, con connettori pensati per durare nel tempo.